... ... Ovviamente tutti i nostri ragazzi fanno delle gare a livello nazionale e anche internazionale e di fronte a voi avete due atlete Siria l'anno scorso ha frequentato, ha partecipato ai campionati italiani under 15 a Ostia mentre Giorgia ha fatto il campionato italiano assoluto che è il campionato più importante d'Italia dove partecipano anche i gruppi sportivi militari e partecipano anche alle metà le olimpiche oltre a loro c'è Francesco che ha fatto forse quattro finali dei campionati italiani nella carriera una da esordiente e due da cadetti se non erro due da esordiente e tre da cadetti bene così va bene, passiamo parola grazie grazie grazie